E' una idea che è nata nel 98, assieme a provincia, regione, comune e stato. Ognuno ha messo una quota di finanziamento, è stata una scommessa, allora è apparsa molto ardita. Oggi è una bellissima realtà la scuola superiore di Catania, che va naturalmente consolidata nel rapporto con le altre istituzioni ed è questo il tema che abbiamo affrontato tanto con il rettore quanto con il direttore della scuola. Credo che ci sia bisogno di preparazione in tutte le discipline per essere competitivi con un mercato sempre più esigente e da parte della regione c'è la più ampia disponibilità a sottoscrivere protocolli e intese che possano consentire ai ragazzi che vorranno frequentare e concedarsi nella scuola superiore di Catania di avere tutti gli strumenti necessari in termini di abilità professionale e di competenze per poter accedere ai mercati del mondo. Fatemi dire che l'Università di Catania lo scorso anno ha avuto un incremento del 25% degli iscritti, nuovamente ha replicato e ha avuto un incremento dell'11% e tutte le classifiche dimostrano che è tra le università che sta aumentando il numero di iscritti in maniera maggiore. È un'inversione di trend importante e la visita oggi del presidente Musumeci presso la scuola superiore di Catania dimostra davvero l'attenzione della regione siciliana a quella che è, fatemelo dire, una vera e propria perla siciliana. È un'occasione importante e il messaggio che cercheremo di passare al presidente è molto semplice, quello di considerare questa scuola con questa sua straordinaria villa una vera e propria infrastruttura, una sorta di grande contenitore di competenze, di idee, di entusiasmi che i giovani, che i tanti giovani che risiedono qui dentro, parliamo di quasi 90 ragazzi che risiedono qui durante il loro percorso formativo di triennale e poi di specialistica, possono mettere a disposizione della nostra regione. Questo significa che il bagaglio di competenze può accrescere enormemente la macchina regionale nei suoi vari dipartimenti, nelle sue varie strutture. Quindi la regione deve vedere questo contenitore, un contenitore appunto da cui attingere già, dal mio punto di vista, durante la fase formativa. perché i ragazzi elaborano idee con una velocità talmente elevata che è davvero un peccato non utilizzare.